Quando è avvenuto il furto? Il furto è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 18.45. E vi siete accorti dalle telecamere? Accorti perché siamo passati qua dieci minuti dopo e non c'era più l'alberello. Dove non è l'alberello? Abbiamo controllato la scheda della telecamera e da lì abbiamo visto chi l'ha rubato e quando l'ha rubato. E' riconoscibile? Voi conoscete questo soggetto? Questo soggetto io lo riconosco perché già ci ha rubato delle cose precedentemente, ha tentato di rubarle successivamente e adesso ha fatto l'ennesimo furto. Non sono furti importanti però scocciano comunque. Di che cifra si parla? L'ultimo parliamo di una cifra di 70 euro. Avete comunque sporto denuncia? Non ho sporto denuncia perché è successo ieri sera, perché dovrei perdere un paio d'ore per andare a fare la denuncia, far perdere tempo alla polizia, per niente, perché tanto entrano mascherati con il cappello. Io lo riconosco perché ormai è un abitué, ma nessun altro potrebbe riconoscerlo. In questi ultimi anni avete subito diversi colpi? In questi ultimi anni sì, ne abbiamo subito diversi, da oggetti di venini che avevano valore importante, perché parliamo di 8.000 euro, a cose meno di valore, tipo delle lampade che erano appese qui, staccate e portate via. L'altra volta era un capitello di legno, poi rubano i tappi delle bottiglie. Si divertono a rubare un po' tutto, quello che riescono. L'altro è un po' tutto, quello che riesco.